Dalla piccola imbarcazione tradizionale veneziana fino allo yacht da 30 metri, ma anche l'innovazione dei motori con l'ibrido, la vela, l'accessoristica dedicata e poi la svolta elettrica tra le onde che rappresenta una virata decisiva impressa al settore in cui si inserisce tra gli altri venti la E-regatta. Noi avevamo raccolto questi partecipanti da tutto il mondo che venissero con una barca della dimensione di un taxi veneziano e che fosse al contrario con trazione completamente elettrica. Un settore che nel salone concretizza la ripartenza quale primo evento nautico dell'anno. Un settore che ha tenuto nel 2020, questa fiera, questo salone nautico si inserisce come un momento di sviluppo nell'area medio orientale del Mediterraneo e quindi anche per il turismo nautico di tutto il nord adriatico fino a tutto l'oriente del Mediterraneo. La grande peculiarità è poter raggiungere il salone nautico con la propria barca. È stato fatto un meraviglioso invito da parte dell'organizzazione a raggiungere Venezia con la propria unità di qualsiasi Italia offrendo tre notti gratuite nell'ambito dei porti turistici del centro storico di Venezia che molti ancora non conoscono. Tra cui l'isola da Certosa, il Marina di Sant'Elena, il contesto che dista 250 metri dall'arsenale e che vorrebbe smentire il fatto che a Venezia non ci siano servizi adeguati. Voglia di ripartenza che oggi era rappresentata su più fronti della creatività, compreso quello della musica. Io mi gustavo ogni tanto, tiravo giù la mascherina, ero seduto lontano da tutti per respirare e guardarmi intorno. Sogno il pubblico, sogno la gente seduta, sogno che si riprenda a vivere perché ne abbiamo tutti quanti un gran bisogno ma soprattutto abbiamo diritto di ripartire.